Un accordiale e buona serata dall'Ippodromo di Egnano, convegno particolarmente interessante, nove corse, si sono già disputate tre qualifiche riservate ai due anni, i due anni aprono la giornata di corsa, sono in sei, circa cento metri allo stacco della macchina. Sbaglia il nigno di Bielle, il Bomber Horse assume l'iniziativa attaccato e sopra avanzato all'imbocco della prima piegata da Ernst che poi si scompone e finisce con lo sbagliare e così il Bomber Horse con lancio in 14,3 è leader nei confronti di Eletta Star che precede Erino Jet, poi Ernst Jet rimesso. Primo quarto completato in 31, ha sbagliato il numero uno Eleganza a V e insegue lontano è ancora più lontano e il nigno di Bielle, restano quindi in quattro a contendersi la vittoria a meno di clamorosi recuperi. 46,5, i 600 si viaggia sul piede dell'1, 16,5, poco più. Er Bomber Horse da favorito a dettare le danze. Mezzo miglio iniziale completato in 1,4 con 17,5 di ultima frazione. Torna ad allungare sulla retta di fronte l'ideale Lewis di Mario Minopoli, seguito da vicino da Eletta Star, la Napoleon Bar di Ghetano Di Nardo. chilometro in 1,19,6, tutti ad attendere il tratto conclusivo, nessuno fa la prima mossa, ci pensa adesso Ghetano Di Nardo con Eletta Star che va ad impegnare Bomber Horse, 1,35,3, tre quarti di miglio, Er Bomber Horse si difende un po' e così Eletta Star lo va a parigiare, poi è Eletta Star a fare una difesa caratteriale a eliminarsi, riparte Bomber Horse, ci prova Ernst dopo rottura iniziale, ma Bomber Horse ha vantaggio sull'avversario che conserva inalterato fin sul traguardo. 2,35 l'arrivo probabile ed ufficioso, i più attesi al traguardo a vincere questo figlio di ideale Lewis ed unica del Ronco, per cui si tratta di un fratellastro di Condor Horse. Vediamo i metri finali con Er Bomber Horse che passa il palo per primo nei confronti di Ernst Jett e al terzo Erino Jett, media di 1,18 secchi per chi vince, portacolori del Team Minopoli allenato da Mario Minopoli. Molto bene Ernst Jett ha qualcosa da mettere a punto, però è andato veramente forte. Grazie.